In uno dei precedenti video abbiamo discusso approfonditamente di quello che è successo nei mercati finanziari in questi primi sei mesi del 2022. Abbiamo parlato di cause e effetti, abbiamo cercato di tracciare dei puntini in maniera tale da avere quantomeno una bussola verso cui indirizzare i nostri ragionamenti. Tra parentesi se siete interessati all'argomento vi consiglio di andarla a recuperare potete cliccare qui in alto. E tra vari argomenti abbiamo trattato le banche centrali le quali stanno cercando di gestire la questione di inflazione, un argomento estremamente spinoso. Anche lui finalmente sta facendo i suoi primi passi, la Federal Reserve già da molto tempo sta cercando di contrastare l'inflazione ma comunque vi è un punto che non abbiamo trattato adeguatamente a mio parere. Nel video infatti abbiamo detto che vi esiste un'arma per affrontare l'inflazione ovvero quella di aumentare i tassi di interesse e giustamente qualcuno di voi può dirmi ma allora per quale motivo non lo fa una volta per tutte la banca centrale che sia americana oppure che sia europea così da chiudere questo problema dell'inflazione? Una sola parola, recessione. Ma bentornati amici investitori e benvenuti a questo nuovo video, io sono Daniele, consulente finanziario e oggi parliamo di banche centrali e di recessione. In realtà come sempre l'argomento che andiamo a trattare è molto ma molto più ampio di quello che possiamo trattare per forza di cose in un singolo video quindi vi consiglio come sempre se affrontate i mercati finanziari autonomamente di informarmi quotidianamente su quello che sta succedendo e sul perché e le cause di alcuni fenomeni macroeconomici specie se sono questi, il fulcro magari come nel mio caso, delle vostre scelte di investimento. Prima di tutto cerchiamo subito di rispondere a questa domanda. Perché le banche non fermano l'inflazione? In effetti può aver senso apparentemente. Aumentando i tassi di interesse le banche centrali vanno ad abbassare la spesa. Abbassandosi la spesa rallenta l'economia e ciò fa abbassare i prezzi dei beni che è la diretta conseguenza di un blocco dell'inflazione. Ma allora perché diamine non succede una cosa del genere? La risposta più semplice è che facendo questo tipo di operazione in maniera troppo brusca, troppo repentina si rischia di andare a creare molti più disastri dall'altra parte. Potete immaginarlo se vi è più semplice come una coperta troppo corta. Se la andiamo a tirare troppo verso l'alto perché sentiamo freddo o comunque sentiremo freddo ai piedi. Il principio è lo stesso ma adesso andiamo con ordine. Il fenomeno di abbassamento progressivo dei prezzi o se è il contrario dell'inflazione viene definito deflazione. Durante la fase di deflazione i prezzi al contrario di salire scendono e questo potrebbe sembrarci ottimo. D'altronde immaginate la benzina che torna ad 1,60€. Sarebbe perfetto. Qualcuno di voi potrebbe pensare che sia un sogno e in effetti apparentemente all'inizio potrebbe sembrarlo. In un primo momento sì perché abbassandosi il prezzo dei beni noi diventiamo leggermente più ricchi perché con gli stessi denari possiamo acquistare più cose. E questo cosa consente di fare? Consente di mettere in moto nuovamente l'economia che dopo il tracollo riesce a vedere lo spiraglio per far ripartire il tutto. Quindi ricapitolando vediamo l'inflazione i prezzi aumentano le banche centrali cercano di bloccare l'inflazione aumentando i tassi di interesse. Questo ci rende progressivamente più poveri quindi spendiamo meno i prezzi si adeguano quindi si abbassano noi torniamo ad essere più ricchi e cominciamo a spendere. E da quel punto l'economia riparte e il tutto sembra estremamente lineare. E adesso arrivano i problemi. Supponiamo per un momento che la banca centrale dovesse di punto in bianco creare un vero e proprio strappo con i tassi di interesse aumentandoli alle stelle. E questo comporterebbe anziché una lenta discesa un tracollo della nostra spesa. E cosa vedremo noi se di punto in bianco diventassimo estremamente più poveri? Vedremo i prezzi nel giro di pochissimo tempo scendere dei beni perché la gente non compra più. Ora immaginatevi di trovarvi nella situazione in cui dovete comprarvi casa, comprare una macchina, comprare un frigorifero, questo genere di beni e vedete che del punto in bianco nel giro di pochissime settimane oppure mesi i pezzi crollano ripetutamente. Cosa fareste voi? Moltissime persone, magari se è uno di questi, deciderebbe di aspettare. Aspettare che i prezzi continuino a scendere perché sono scesi fino a questo punto in modo da massimizzare il proprio affare. Ma questo che cosa comporta? Prendiamo noi che dobbiamo acquistare il nostro frigorifero come il complesso della domanda di un bene, mentre il frigorifero come il complesso dell'offerta dei beni. Se l'azienda del frigorifero vede che io non compro il suo bene, abbasserà il prezzo di quel frigorifero per invogliarmi a spendere. Dall'altra parte io che cosa faccio? Decido di aspettare perché il prezzo è sceso e voglio che scenda ancora. E questo fa sì che l'azienda sarà costretta ad abbassare ancora più il prezzo, io continuo ad aspettare e via discorrendo. Questo comporta l'entrata all'interno di una spirale negativa. Le aziende cominciano a vedere meno entrate, cominciano ad investire di meno nel futuro, cominciano a licenziare per limitare i costi, cominciano a spendere meno in materie prime, meno di prodotti, l'economia comincia a fermarsi, le altre aziende faranno sempre meno profitti e il PIL scende portando gli stati in una recessione. Introduciamo a questo punto la recessione. Tecnicamente questa fase economica si calcola prendendo in considerazione due PIL trimestrali negativi di uno stato, anche se in realtà questo è solamente un tecnicismo e neanche l'unico metodo utilizzato per calcolare cosa sia la recessione. Il PIL che abbiamo appena detto è il prodotto interno lordo, sia quanto produce un paese per semplificare all'osso. Dato che la nostra economia si basa sulla crescita, sul concetto di crescita, ci si attende che anche il PIL vada a crescere nel corso degli anni. Se questo non succede si entra in recessione. Ricordate il concetto di prima della coperta troppo corta? La banca centrale per fermare l'infrazione aumenta tantissimo i tassi di interesse e questo manda in shock l'economia e le aziende sono costrette a licenziare. E in questo caso diremmo ottimo lavoro banca centrale. Ovviamente i vari istituti predisposti a gestire questo tipo di situazioni non sono sciocchi, conoscono queste regole di base, anzi molto più approfonditamente di quelle che io ho descritto in questo video. Ed è proprio per questo motivo che si stanno cercando di muovere in maniera molto cauta. In realtà la Fed è in maniera molto meno cauta della BCE, ma comunque cauta. L'obiettivo finale che stanno cercando di più o meno gestire un po' tutte quante le banche centrali, salvo alcune che stanno ancora iniettando liquidità, è quello di arrestare gradualmente l'inflazione. Questo senza creare uno strappo e andare a tirare sulla coperta dall'altra parte, quindi uscire dal circolo vizioso dell'inflazione senza entrare nel circolo vizioso della recessione, ma cercando di far ripartire l'economia evitando quest'altro scenario. Poi andiamo a vedere ci riusciranno, non ci riusciranno, qualcuna sì, qualcuna no. Vedremo il nostro lavoro, non è prevedere il futuro, il nostro lavoro è cercare di studiare il fenomeno e muoverci in tal senso. Però mi premeva fare questo video per spiegare un po' quello che sta effettivamente succedendo all'economia reale, mondiale e sono sicuro sia utile a tutti quanti voi. Se così fosse lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate, vi ricordo come sempre che potete iscrivervi e attivare la campanella e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!